La patologia mentale è associata spessissimo a disfunzioni sessuali. Il tema è stato molto spesso tralasciato, non osservato in maniera adeguata dagli psichiatri, non ritenendolo un argomento utile per la cura della malattia. Ultimamente si è sempre più osservato che invece la disfunzione sessuale non è solo effetto della patologia mentale, ma diventa con causa. C'è una relazione bionico che trattare il tema della salute sessuale in un soggetto affetto da una patologia mentale significa produrre anche un effetto sulla salute mentale dello stesso e sul benessere di coppia. Interventi di questo genere, che non sono solo degli interventi di ordine ambientale e sugli stili di vita, ma anche degli interventi farmacologici, permettono di migliorare la qualità di vita e di produrre salute. Il risultato è che il psichiatra deve rioccuparsi della sessualità come elemento fondamentale per assicurare una buona qualità di vita e un buon successo terapeutico per i suoi interventi.